Start, 2, 1, initial mission, and lift off! I disturbi psicologici che vede praticamente un mostro che uccide tutti quelli che trova sulla sua strada ed è un gioco che va a dare un insegnamento di cui nessuno parla al giorno d'oggi, è un gioco che spinge il giocatore ad arrabbiarsi, infatti lo sviluppatore mi diceva che i giocatori di questo titolo si dividono in due, chi ama il gioco e chi lo odia perché è un gioco che non ha checkpoint, moriamo e ripartiamo dall'inizio, ma è un gioco che volutamente fa arrabbiare il giocatore per far comprendere meglio il finale sulle vicende di questo ragazzo, la grafica è la pixel grafica, la visuale è in 2D, ma un po' spiazzato dico la verità, il gioco ha dei finali diversi, infatti negli achievement vedete che abbiamo diversi finali, abbiamo le monete da trovare che sono nascoste nel mondo e c'è Kabumbo che è il mostro che questo bambino vede c'è un achievement perché volendo si può completare anche in 10 minuti, se si sa cosa si deve fare, beh, questi erano gli achievement, le impostazioni grafiche non ve le faccio vedere, questo è un menu segreto, ma lo iniziamo, lo iniziamo ma non voglio giocarlo più di tanto perché sarebbe un delitto rispetto a un'opera di questo tipo, perché comunque costa 4,99 ed è un'esperienza, questa è la mamma che gli dice, chiediamo che è questo, svegliati i codi e lui si sveglia e questa è l'ambientazione, ci sono tasti ID per muoversi, il tasto destro, vedete, per prendere, si può accendere o spegnere la luce, può essere fondamentale accenderla ora o non accenderla, comunque noi clicciamo sulla porta e usciamo e scopriamo che, questa è la camera dei genitori, i genitori non hanno fatto proprio una bellissima fine, mi sembra abbastanza, non so, censurata come cosa, mi sembra una giraffa, ma in realtà sono loro, e quindi qui non c'è nient'altro da fare, ma noi scopriamo che la fine è stata questa, l'altra cosa che mi ha un po' spezzato è che entrando in bagno c'è Jack, il berbone, lui è qui e dice, Jack sei tu, accendiamo la luce e lui è qua dietro e lui ci dice, ciao piccoletto, per favore mi serve il tuo aiuto, cosa posso fare, qualcuno voglio dire, qualcosa ha ucciso mamma e papà, penso sia ancora queste parti, pronto ucciderci, e lui dice, aspetta, sei serio? E lui dice, no guarda, sto scherzando, ascolta piccoletto, le chiavi di casa, ma prima dovresti portarmi qualcosa da mangiare, non riesco a camminare, stomaco vuoto, andiamo, hai le mie chiavi, pretendi qualcosa in cambio? Quando mi hai fatto entrare a casa tua, dicesti che eravamo amici, e vabbè ci sta già ricattando, la cosa che da un lato mi ha fatto arrabbiare, ho pensato potesse essere questo, cioè è successa questa cosa, lui chiede da mangiare, il bambino lo fa, insomma non si dispera, però abbiamo detto che il bambino ha dei problemi psicologici, abbastanza seri, quindi ho scoperto che devo tornare qui, prendere questo panino che lui si è portato a letto, e portarglielo, qua non potremmo più entrare, perché non vuole rivedere quello che ha visto, insomma qualcosa ha buttato giù la parete, e io voglio riproporvi, diciamo, quello che è stata la mia primissima partita, quindi io glielo porto, e lui ci dice, grazie, adesso sparisci, ed ha bisogno della chiave, ti prego, ti ho mentito, non ho nessuna chiave, adesso sparisci, vai all'inferno, rispongo la luce, ora vi faccio vedere esattamente come è andata il mio primo gameplay, io sono arrivato qui, accendo la luce, vado oltre, e scopro che cosa è successo, lui, che ci uccide, fine, si riparte dall'inizio, la mamma che ci sveglia, e il bambino che ovviamente si risveglia ancora nel suo sogno, esattamente, sogno, io ipotizzo, perché può essere veramente qualsiasi cosa, ovviamente non possiamo andare a prendere già il panino, infatti non è tempo di cenare, usciamo, rifacciamo la stessa cosa, ed è quello che probabilmente va a frustrare un pochino i giocatori, ma è voluta, dicevano, per apprendere meglio comunque il finale, e vivere un'esperienza di un certo tipo. Ora, torniamo da lui e iniziamo la partita seria, per modo di dire, accendo già la luce, qui c'è Jack, solito, Jack che tra l'altro secondo me non farà una bellissima fine, perché c'è il mostro in casa comunque, risalto, tanto l'abbiamo già visto, torno a prendergli il sandwich, lo snack. La natura horror del gioco sta nel fatto, lo andremo a vedere adesso, che comunque noi possiamo fuggire, ma quando ci rintaniamo nelle sicure stanze del piano di sopra non sappiamo effettivamente il mostro, il dinosauro a questo punto, Kabumbu, come si chiama, non sappiamo dov'è, sentiamo solo i passi, quindi lui ci manda a quel paese, noi decidiamo di scendere di sotto e vedere che cosa succede. Ora, non accendere la luce, non accendere la luce, e vediamo che c'è quello. Ovviamente noi possiamo fuggire, sta arrivando a prenderci, vedete, ci mette l'ansia, io decido di entrare qui, lui si sente che sta salendo, ma non si sa se verrà qui o meno, io spengo la luce, lui non parla con noi, ovviamente in giro per l'ambiente ci sono le monete da trovare, ci sono i topi, se io posso uscire, devo capire se è qui, eccolo lì, che torno dentro, non mi vede, torna di sotto. Ho detto che non voglio soffermarmi troppo, perché sarebbe uno spoiler che vi farebbe perdere i primi minuti, che magari potrebbe influenzare il vostro giocato, perché potrebbe non rendervi così frustrati, se sapete cosa fare. Ora, provo a tornare in stanza, vediamo se c'è la possibilità, torna in stanza, qua vedete che il nostro amico Barbone sta scendendo di sotto, e sta tentando di fuggire, continua a cercare, controllate le spalle, ok, allora, praticamente il nostro amico, mamma mia, mi sono salvato il pelo. Vediamo se è passato oltre, scendo di sotto, vediamo se, stando sempre attento ad andarmi, e lui non ha fatto una bella fine, però c'è la chiave che ho preso, scappo di casa, ok, lui viene su, vediamo se viene su, viene su, ok, io entro in stanza, adesso tecnicamente lui dovrebbe andare in fondo, in teoria, scendo, vediamo se riusciamo a fuggire, no, è qui, eh sì, viene qui, sì, ci rifugiamo, nelle stanze non entra, non possiamo neanche pensare di uscire, devo in qualche modo, a capire come superarlo, qui se ne sta andando, ok, lo sto tornando qui, non so se accendere o spegnere la luce cambia qualcosa, può essere veramente qualsiasi cosa, qui, comunque, non so se scenderà di sotto, no, direi di no, per me siamo incastrati qui, non c'è modo, devo, devo riuscire ad andarmene, devo riuscire ad andare nel bagno, e poi anticiparlo, quando lui va oltre, e il problema è che non ce la facciamo, adesso sembra non esserci, appena sale, entro qui, così so che, non lo sento per camminare, permette ci lascio in pace, il cavolo, eccolo lì, e vedete che sale un pochino la frustrazione a questo punto, perché, perché dobbiamo rifare tutto da capo, bisogna ricominciare nuovamente da capo, l'inizio, sempre quello, ora sappiamo di più, sappiamo più o meno le routine che ha, dobbiamo riuscire a farlo passare oltre, scendere di sotto, prendere la chiave e andarcene, ma al contempo dobbiamo andare qui, e finire tutto, mi incuriosisce perché il prezzo non è male, ma soprattutto, si vuole capire fin dall'inizio, dove vuole andare a finire, diciamo come gioco, soprattutto trattando questa tematica qui, di questi problemi psicologici, che chi lo sa, il mostro, io posso ipotizzare se è qualcosa di immaginato dalla sua mente, ma anche il babone ad esempio, l'amico da aiutare, che poi ti si rivolta contro, cioè non lo so, onestamente, ho trovato anche un topo a un certo punto, ma era, ma intanto gli eludiamo lui, lui ci manda via, ora, sappiamo che per poter scappare, lui ha la chiave, abbiamo scoperto che ha la chiave, ma, dobbiamo, pian piano, dice la cucina, quindi bisogna salire, lui arriva, arriva fin qui, lui scappa, ma se io esco, lui dovrebbe già averlo fatto a pezzi, infatti, vediamo se riesco a prendere la chiave, sicuramente no, però, no, ma beccato, ragazzi, io credo sia assolutamente un delitto andare avanti, perché comunque, dovrebbe già avervi dato una bella ispirazione, soprattutto per capire se il gioco può piacervi o meno, questa, secondo me, è una di quelle tante nature indie, che non vanno a copiare qualcosa di già esistente, ma è uno di quei giochi, frutto magari di un'idea originale, che si sviluppa in un modo altrettanto originale, quindi io ringrazio lo sviluppatore, di avermi mandato una copia del gioco, e di averlo potuto portare sul canale, insomma, grazie a loro, fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi qua sotto, il prezzo, secondo me è assolutamente ottimo, calcolando comunque che dietro c'è un lavoro, insomma, andrà finito con calma, probabilmente se c'è un obiettivo che dice finiscilo in dieci minuti, vuol dire che a sapere cosa bisogna fare sarà bello lungo comunque, perché comunque dieci minuti sono tanti, soprattutto se sai cosa fare, e lo devi fare velocemente, quindi probabilmente nelle fasi stealth devi essere un pochino attento in quello che fai, attendo anche il commento dello sviluppatore qua sotto, se vedrà questo video nei commenti, insomma per dire se hai detto qualcosa di sbagliato, se c'è qualcosa da aggiungere nei commenti, me lo faccia sapere qua sotto, io vi ringrazio, e vi rimando a un prossimo video gameplay, alla prossima, e ciao ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.